In zona Trastevere, sabato tardo pomeriggio, piove, la signora Marina, pensionata di 79 anni, ha bisogno di prelevare dei soldi dal bancomat. La tessera si incastra nella fessura e un signore gentilmente si offre di aiutare Marina. Quando il lunedì mattina la signora va in banca per chiedere una nuova tessera, scopre che sul suo conto sono stati effettuati ben sette prelievi nell'arco di due giorni. All'inizio sembrava uno che mi voleva aiutare, pensavo che il mio bancomat fosse rimasto dentro. E questo ne ha approfittato per ritirare il bancomat. Mi sono arrivati dei messaggi, però io non capivo, dicevo ma come la carta, io non ho carta di credito. Quello era un bancomat. Poi sono andata in banca e abbiamo scoperto quello che era successo. Allora, la nostra Giovanna Savini, buongiorno, ciao Giovanna, con Marina, la signora Marina che è la vittima di questa truffa. Intanto vi ringraziamo di averci aspettato, oggi la scaletta è lunga per cui so che ci avete aspettato un po' di tempo, però vogliamo raccontare questa storia. Giovanna, a te. Buongiorno Eleonora, ringraziamo la signora Marina che sta vivendo un momento difficile e nonostante tutto ha accettato di partecipare alla nostra trasmissione e di parlare di quello che le è successo. Esattamente, le sono stati rubati 10.812 euro, 7 prelievi, il primo di quasi 5.000 euro e poi una serie di prelievi di 500 euro, a partire da quella proposta di aiuto. Lei non si è accorta che in realtà quell'uomo non la voleva aiutare ma la stava truffando. Addirittura si era spacciato per una persona che lavorava per la stessa banca. Che cosa le ha detto? No, no, io ho avuto dei sospetti subito, però per me, non avendo visto uscire il Bancomat alla fine, per me il Bancomat era ancora dentro ed è rimasto dentro, poi me l'hanno spiegato, cioè ha fatto delle cose allucinanti. Io mi sono colpevolizzata per essere stata così cretina per giorni e poi perché, insomma, sono single, zittella si diceva una volta, ho 79 anni e sono pure invalida civile e lei capisce che per me sono molti questi soldi, ecco, vivo in affitto soprattutto. Questo è quanto. Poi via via sono stati scopi, da quando la faccenda è andata, molti esperti, molta gente si sono detti da fare per spiegare i metodi di questo. Questo è un mostro, sanno fare di tutto. Tra l'altro, Leonora, naturalmente la signora Marina ha sporto denuncia, ci sono anche dei filmati, dei filmati della banca che hanno... I filmati, ieri sono andata lì alla polizia perché hanno i filmati, ma niente, si vede, sono molto lontani e i poliziotti mi dicono ma sa signora vagamente si vede, è difficile trovare una persona attraverso questi filmati. Tra l'altro dai filmati si è capito che in realtà le persone erano due, lei ha visto una persona sola, ha parlato con una persona sola, ma in realtà c'era anche un complice, qualcuno che poi lo ha aiutato. Ma sì, devo dire che essendo piena la banca, con file, c'era tanta gente che si aggirava. Quest'altra persona io non me la ricordo, però dicono che faceva parte anche lui, ecco, della situazione. Poi sa, quando sono scoperto il tutto sono stata veramente per giorni molto male, non avevo il coraggio di parlare con nessuno. Poi siccome ho incontrato il giornalista Fabrizio, che conosco da tanti anni perché io facevo anche degli uffici stampa, e giustamente lui ha detto no, non solo per vedere di aiutare, ma credo che sarà difficile che possa recuperare, ma anche perché è altra gente. Cioè queste cose si devono sapere, anzi c'è un appello che lei vuole fare, lo faccia signora Marina, lo faccia. Sì, 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 ecco Eleonora, mi ha chiesto la signora Marina, cortesemente di leggerlo perché aveva appunto paura, insomma, di spiegarsi non nel modo più corretto possibile. Allora sì, la signora Marina vuole fare un appello a tutte le associazioni dei consumatori, perché si impegnano a fare inserire delle norme a tutela degli anziani nel gestire i rapporti con le banche. Perché tra l'altro lei aveva un massimale, quindi dal suo conto non si poteva prelevare una cifra superiore ad un certo tot. Però quest'uomo, avendo il PIN, perché lei ingenuamente ha appunto detto il suo PIN, è riuscito ad alzare... È riuscito a vederlo lui. L'ha visto. Io a un certo punto cercavo di nascondere il PIN, però a un certo punto ho provato a farlo con la mano sopra, ma ormai... Avendo visto il PIN è riuscito ad alzare il massimale. Allora, l'associazione dei consumatori dice di poter fare delle regole banche e le persone anziane per gestire meglio questi conti correnti, tanto, ad esempio, quando ci sono questo tipo di truffe, da non poter prelevare più di quello che è stato previsto nel mese, diciamo, della capa del banche. Ma tra l'altro io vorrei ringraziarla, signora Marina, perché lei ha fatto una cosa veramente intelligente e generosa. Perché oggi un italiano su quattro ha più di 65 anni e tra cinque anni sarà un italiano su tre. Allora, voglio dire, dobbiamo cominciare a capire che il problema di tutelare gli anziani vuol dire tutelare tutti noi. E peraltro lei ha ragione, cioè la banca è un posto dove l'anziano va sempre e dove si trova sempre spaisato. Dovrebbe esserci un desk, le banche guadagnano, facciano un desk specializzato dove vanno gli anziani. Peraltro la mia carta di credito ha un tetto che più che 500 euro al giorno non si possono prelevare. Questo dobbiamo saperlo, lo chieda perché chieda a un avvocato... Ma anch'io avevo... Allora, Donaldo... Scusi... Scusi, mi hanno spiegato che anch'io li avevo questi... 500 euro, giusto, poteva prelevare al massimo. C'è un sistema che questo sa usare, questo è un tremendo, capito? Che per cui puoi far saltare in certe occasioni. E questo ha fatto... È un difetto della banca, la banca la deve risarcire. È un errore, un bug nel sistema della banca. La responsabilità è della banca. Donaldo! Ma no, perché la banca... No, io lo voglio dire, non voglio infierire, perché poi io con gli impiegati di questa banca sono sempre stati molto carini con me e tutto. Però, certo, quello che io mi chiedo, come il sabato pomeriggio e la domenica con la pioggia, i posti dove si fa il bancomat, qualche volta uno si ferma e quell'altro così. Sono pieni di gente, non ci sia un minimo di controllo dentro. Voglio dire... Un suomo, il primo prelievo che ha fatto, tra l'altro nella notte, perché è tornato la notte, no? Presso il bancomat, è di 4.992 euro. Come è riuscito a fare un prelievo del genere se il massimale era di 500? Ha manomesso il sistema. Ma credo, lui ha saputo gestire una situazione per cui si può sbloccare i massimali. Me l'hanno spiegata e naturalmente per me è difficile capirla. Io ci credo, perché gli hanno rubati a lei... È la banca che non è magari un errore della banca, magari è una maniera per sbloccare quello, è entrato... No, guardi, non è stato... No, non lo so, devo chiamare un bancomat. Scusi, per me... Però ci credo alla signora. Donaldo, scusi. Non per avere il massimale. Donaldo ti vuole parlare, Marina. No, guardi. Donaldo ti vuole parlare, Marina. Sì, no, guardi. Intanto un plauso alla signora, perché rappresenta le tantissime persone, in gran parte anziani, che vengono truffati nelle banche, attraverso il telefono. A questa trasmissione, Eleonora, prenditi a cuore ancora sempre di più questo tema che è drammatico per tantissimi anziani che ogni giorno vengono truffati da questi mascalzoni delinquenti. ferendo profondamente queste persone di una certa età, quindi vulnerabili, che magari hanno i loro pochi risparmi e vengono portati via. Quindi, grazie alla signora Marina, ma anche dobbiamo cercare di continuare a dare voce per aiutare le tante persone che anche attraverso la televisione possono stare più attente, perché qui siamo veramente in base. Grazie, Marina. Vieni a trovarmi in studio. Grazie, Giovanna Savini. No, posso dire... Sì, chiudo. Scusate. Marina, concludi. Posso dire una cosa. Concludi. No, posso solo dire una cosa. Io, dalla Banca Nazionale, rinfaccio solo i pochi controlli. Cioè, quando sei di sabato, piove e le folle, le macchine non funzionano bene. Un minimo di controllo fino alla notte ci dovrebbe essere. L'onore, anche perché Marina doveva pagare l'affitto, tutta una serie di spese e speriamo che possa, almeno in parte, riavere questi soldi. I controlli li avranno. Bisogna capire come hanno agito i criminali. Adesso noi possiamo dare la colpa alla banca che non ha avuto i controlli. No, no, me l'hanno spiegato. I controlli, ma i criminali hanno agito in maniera tale da evitarli, Marina. Capito? Cioè, il problema è quello, comunque. No, non lo dico a me. Mi hanno spiegato che questo conosceva anche il sistema per sbloccare i massimali. L'abbiamo capito. Questo mi hanno spiegato. Perché sono dei truffatori, sono dei delinquenti seriali. E lo so che studiano i sistemi tali per truffare meglio, purtroppo, le persone. Bisogna assolutamente fare attenzione e difendere e tutelare gli anziani. Difendere e tutelare gli anziani. Grazie Marina, grazie Giovanna Savini. Grazie ai nostri ospiti che sono stati qui. Adesso vi racconto una storia sulla quale ritorno.